Ciao a tutti e benvenuti a tutti in un nuovo video, oggi siamo qua sull'episodio della Summer Survivor ragazzi siamo nell'episodio 12, però c'è stato un problemino, ovvero mentre registravo il video non ho settato l'audio, infatti non si sente niente e quindi ho dovuto velocizzarlo e metterci la musica tanto era comunque un video in cui abbiamo praticamente spianato e abbiamo iniziato a costruire qualcosina quindi mi spiace per questo piccolo inconveniente, arriviamo comunque a 25 like per il continuo passate dal canale di Alerek che lo lascerò in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, bella! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.